Io sull'euro digitale, come dicevo anche ieri, non ho grandissime opinioni forti, nel senso che non sono né a favore né sono contro, vediamola così, nel senso che ancora, ma anche altri esperti sul tema, sulla materia, ne ho sentiti alcuni nei giorni scorsi anche per farci una live tematica, non hanno ben capito quale sia l'obiettivo di questo euro digitale, di questo benedetto euro digitale. Non se ne capisce probabilmente il motivo perché è molto una fase, diciamo ancora, di marketing, di esplorazione e via discorrendo. Quando parliamo di euro digitale parliamo di una valuta, una criptovaluta, vediamola così, se proprio vogliamo metterla in questo modo, però parliamo di una valuta digitale delle banche centrali, che è diversa rispetto a quelle che potete avere in testa, come penso Bitcoin o altri generi di valute digitali o asset. In questo caso mi riferisco alla recente discussione riguardo appunto se i token siano asset o siano assolutamente da distinguere appunto da questi asset. Però, tornando al punto, il tema probabilmente è quello di chiedersi come mai adottare un modello di questo tipo, posto che le soluzioni tecniche, modello decentralizzato, centralizzato e via discorrendo, sono ancora in discussione. Questo la dice lunga, diciamo, sulla maturità del progetto. Anche se andiamo sulle FAQ di Banca Centrale non troviamo delle risposte univoche da questo punto di vista. Ecco, la prima domanda da porsi è perché ho la necessità di dotarmi di un euro digitale. Qual è il plus che mi ridà? E questa risposta non è banale, un po' perché, se andiamo ad esempio a vedere le risposte che ci dà appunto Banca Centrale rispetto alla pubblicazione del 28 giugno 2023, che vi vado a condividere, pubblicazione ad opera di Fabio Panetta, che vi ricordo essere responsabile dell'euro digitale, che diventerà poi il nostro nuovo governatore della Banca d'Italia. Ecco, se vedete qua, vi invito a leggere, le risposte sono delle più vaghe sostanzialmente. Perché sono vaghe? Perché la risposta probabilmente era da ricercare nel quando è nato il progetto dell'euro digitale. Ovvero parlavamo di un momento in cui le criptovalute in generis stavano esplodendo e quindi probabilmente la Banca Centrale aveva il timore di perdere il controllo del denaro sostanzialmente. E quindi, anche qui, molte perplessità, a mio avviso, sappiate che quello che dirò riporta a quello che dice Banca Centrale Europea o quello che dicono altri esperti. Magari poi quando ricarico questo pezzo vi lascio sotto qualche link che ho consultato per farmi un'opinione. Però, ecco, mi pare evidente che non vi sia una risposta univoca. L'unica risposta un pochino più interessante potrebbe essere quella di perdere il controllo del contante sostanzialmente. E quindi l'elemento interessante potrebbe essere quello di non fare più da Banca Centrale Europea. Perché la Banca Centrale Europea deve assicurare i mezzi di pagamento e quindi l'estinguersi dell'obbligazione derivante appunto dalla contrattazione fra due persone. Quindi sicuramente questo è un elemento interessante. Ora, ripeto, io ho forti perplessità riguardo a ciò anche perché l'aumento dei tassi ha spinto moltissime persone a disinvestire o comunque rifugiarsi in altri beni. E quindi possiamo dirci che le criptovalute si sono di molto ridimensionate. Specie in progetti come penso a FTX, no, non ho sulla maglietta oggi di FTX, peccato, e specie altri progetti legati sempre a questo concetto di criptovaluta. Ora, non tutte le banche centrali soffrono la presenza delle criptovalute. Quindi c'è anche chi ipotizza che l'idea sia quella di andare a bypassare tutta una serie di meccanismi di trasferimento di denaro. Ora, cerco di farvelo nel modo più semplice possibile, farvelo capire nel modo più semplice possibile, partendo da questo schemino, che ci dice sostanzialmente che cosa? Che nel sistema attuale abbiamo, se una persona deve pagare un'altra persona, anche qua semplifico moltissimo perché altrimenti qui dovremmo iniziare a parlare di riserva, di depositi e vi discorrendo, stringendo molto, quando parliamo appunto di sistema dei pagamenti, parliamo appunto di informazioni che navigano su circuiti, che possono essere il circuito SEPA, che possono essere il circuito SWIFT, che possono essere tutta una serie di circuiti. Ora, su questi circuiti, come avevo già spiegato per quanto riguarda la questione di sanzione della Russia, non circola il denaro, ok? Non circola il denaro. Il denaro circola attraverso la banca centrale, vuoi in euro, vuoi in dollari, vuoi in quello che, insomma, stanno transitando. Ovviamente, quando ci sono due valute diverse, vengono interpellate, diciamo, vengono interpellate le procedure che esistono tra le due banche centrali in considerazione in questo caso. Il denaro classico, vediamola così, c'è il passaggio di denaro da una banca all'altra, attraverso l'intermediazione delle banche centrali. Sia che questa avvenga all'interno dello stesso sistema monetario, sia che questa avvenga al di fuori del sistema monetario, quindi con due sistemi monetari diversi. E qui si scomodano anche le teorie di dedollarizzazione. Quando invece parliamo di euro digitale, essendo che comunque sarebbe un conto deposito presso la banca centrale europea, ecco, parliamo di un contatto diretto rispetto alla banca centrale europea e quindi un superamento di tutti gli intermediari, volendo guardare, quelli che vicitavo poco fa. Ora, da questo elemento nasce un problema, probabilmente, che possiamo dirci di privacy. Ok? Perché? Perché da una parte c'è il cosiddetto sistema retail, cioè la comunicazione tra me e il mio contraente. Io che compro una cosa, lui che me la vende. Dall'altra parte c'è, diciamo, la parte all'ingrosso, cioè la comunicazione fra le varie istituzioni finanziarie o intermediari finanziari. Ora, la banca centrale europea sta spingendo soltanto sulla parte retail. La parte dell'ingrosso, deniamola così, ancora non è abbastanza delineata. Se ne parla con molti timori, diciamo, quindi probabilmente non è un elemento che verrà considerato. Però altre banche centrali, in giro per il mondo, ce ne sono 114 attualmente, se non vado errato guardando i numeri che stanno puntando a queste valute digitali di banca centrale. Cerco anche di dirlo in italiano, così evitiamo di confonderci con altri elementi, evitiamo di dire sigle e via discorrendo, altrimenti non ci capiamo più. Però, se noi ci concentriamo sulla parte retail, c'è chi parla di privacy. Quindi, sostanzialmente, si parla anche della questione relativa ai dati. Cioè, Visa, Mastercard, Swift, via discorrendo, insomma, hanno tutta una serie di elementi che potrebbero essere utilizzati per intaccare la nostra privacy, conoscere le nostre abitudini di consumo. E questo, secondo, diciamo, la banca centrale europea, potrebbe essere un problema. Magari non oggi, magari domani invece sì. Cioè, tutte queste informazioni potrebbero essere usate contro di noi, buona sostanza, stringendo tanto. Allora, l'idea è quella di togliere questo monopolio a queste entità, posto che non è un monopolio, anzi, a mio avviso personale, si riduce anche la concorrenza, vorremmo guardare, un altro elemento che altre persone hanno messo in evidenza, e si dice, andiamo verso, appunto, un sistema di pagamenti in cui è la banca centrale che gestisce un po' tutto, sostanzialmente. E qui io vedo anche alcuni punti di criticità rispetto, appunto, alla privacy. Perché se da una parte c'è chi afferma, eh, ma così, diciamo, abbiamo un sistema di pagamenti non tracciabile, c'è chi dall'altra parte dice, eh, ma così abbiamo un sistema di pagamenti che è super tracciato. Cioè è interessante vedere come si stiano sviluppando queste due posizioni in base un po' anche all'idologismo di riferimento di ognuno di noi e ci mancherebbe una cosa naturale. Quando vediamo qualcosa che non conosciamo, ci spaventiamo. Ora, per quanto riguarda la questione, diciamo, antireciclaggio, secondo le FAQ della Banca Centrale Europea, magari ve le vado proprio a riprendere velocemente, eh, così le vediamo anche insieme, c'è, eh, diciamo, il tema del, eh, della privacy. Prima di tutto abbiamo un massimale di 3-4 mila euro a persona che, eh, diciamo, è possibile depositare verso Banca Centrale. E, in secondo luogo, ci sarebbe una forte autenticazione per, diciamo, accedere a questi, a questo denaro e per aprire, appunto, questo conto. Dopodiché, la Banca Centrale Europea avrebbe, diciamo, tutto il diritto di intervenire nel caso di sospette frodi un po' in linea con quanto avviene oggi per quanto riguarda, diciamo, l'antireciclaggio. Magari la preoccupazione più ampia potrebbe essere quella di assistere a un mostro, vediamola così, un mostro di Banca Centrale che conosce un po' tutte le nostre transazioni. Quindi, paradossalmente, io ci vedo il problema opposto. Probabilmente ho il mio bias e probabilmente se ci fosse un pochino più chiarezza su come verrebbe gestito il tutto, quindi, prima di tutto, la struttura che verrà utilizzata, eccetera, eccetera, ecco, si potrebbe anche dire ok, va bene, i dati a tua disposizione sono pochi, sono quelli che ti servono per fare l'antireciclaggio e basta. Però, diciamo, ora come ora, abbiamo veramente poco a nostra disposizione per poter arrivare a delle conclusioni forti. Quindi, per ora si può soltanto viaggiare sul mondo delle ipotesi, mi verrebbe da dire. Altre questioni riguardo, appunto, sempre alla privacy che si possono scomodare, a mio avviso. Se Banca Centrale Europea ha paura che, appunto, questi dati vengano utilizzati male dalle imprese che forniscono, appunto, questi servizi di gestione dei flusso dati, ecco, vediamola così, mi verrebbe da dire attenzione perché è lo stesso utilizzo improprio che possono fare le imprese private e così lo può fare anche il pubblico. Quindi, mi sembra proprio, ripeto, una cosa che se sbandierata soltanto così con questo enunciato è poco solida volendo guardare questa cosa e quindi mi destabilizza un po'. Detto ciò, c'è anche il tema della concorrenza che abbiamo già tirato fuori e c'è anche un altro tema interessante invece che riguarda la sicurezza dei depositi. Perché? Perché per quanto riguarda i depositi che noi abbiamo presso il nostro conto corrente, la banca e via discorrendo, ecco, quelli sono garantiti fino a 100.000 euro. Invece, i depositi, diciamo, della banca centrale sarebbero garantiti al 100%. Quindi questo ci dà forse uno sprazio di sicurezza in più, ci dà un elemento di sicurezza in più, può essere, però, ripeto, massimo 3-4.000 euro. Quindi, volendo guardare, questa cosa era già garantita prima, è garantita anche dopo. Quindi, anche qui, c'è chi scomoda questo elemento, chi scomodava questo elemento, ma poi quando Panetta ha enunciato che il massimo sarebbe stato intorno ai 3-4.000 euro, ecco, probabilmente, questa fattispecie è venuta a cadere, probabilmente. Poi, anche qui, ripeto, molte ipotesi e molte perplessità. Un tema interessante, sicuramente, è quello comunicativo. perché, guardate, io ritorno sulla pagina centrale della Banca Centrale Europea, così vi fate un po' anche voi l'idea di dove trovare, diciamo, tutte le informazioni, quindi andate nella sezione pagamenti e mercati, euro digitale, e vedete un po' tutte le info. Ecco, a me sembra che queste info, dal punto di vista comunicativo, siano molto povere, nel senso che c'è una piccola descrizione in cui si può accedere a altre domande, l'euro digitale, l'importanza della moneta della banca centrale. Poi abbiamo un piccolo documento che dovrebbe darci il sentore di come viene gestito questo euro digitale, quindi la struttura e il design, però anche qui molto di alto livello, a quanto leggo io. Dopodiché, ancora, i vari vantaggi, un report sicuramente molto interessante, ma, diciamo, le cui sezioni specifiche sono in inglese, e abbiate pazienza, ma per quanto l'inglese sia importante, la moneta è questione di fiducia, quindi non si può soltanto comunicare in inglese. Dopodiché, anche qua, tempistiche del progetto, era la slide che vi facevo vedere prima, e anche questa è in inglese e quant'altro. Ora, sapete perfettamente che io non è che sia questo gran sovranista come ideologia di riferimento. Però vedo molto carente, dal punto di vista comunicativo, la Banca Centrale Europea, da questo punto di vista. Se vedete, ci sono tanti elementi la cui il cui approfondimento quantomeno prevede un grado di difficoltà. Minimo, per la stragrande maggioranza delle persone che seguono magari questa rassegna, ma non indifferente per la Shura Maria che si vuole interessare a questo elemento. Quindi questo è un problema comunicativo. Se ci siamo detti che il potere delle banche centrali deriva da questioni di fiducia, ecco, un po' come nei rapporti interpersonali, la fiducia si basa sulla comunicazione. e se siamo prossimi a una fase importante che è appunto quella dell'ottobre 2023 e ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo ancora ben chiaro quale sia il vantaggio, quale sia l'elemento di base, quale sia la struttura che si pensa di creare e tante le cose che ho già appunto enunciato, ecco che il risultato è una scarsa comprensione del tutto e quindi una mancanza di fiducia. e mi duole dire che le banche centrali in questi due anni hanno perso tanto dal punto di vista della fiducia. Pensiamo a Christine Lagarde, prima andremo meeting by meeting, poi guarderemo i dati, poi da indirizzi di forward guidance, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi non ti fanno pensare a un progetto maturo e questo a me genera alcune perplessità personalmente. sapete, io non ho opinioni forti su questo tema, tiro fuori un boh, ci serve veramente? E magari, ecco, c'è un altro elemento, scusatemi se lo scomodo, che è quello del tempo. Cioè, il settore bancario si muove molto lentamente, il settore delle istituzioni finanziarie si muove molto lentamente. Perché questo? Perché quando si muove deve appunto essere sia conforme alle disposizioni picogenti, quindi di normativa, sia deve considerare in modo molto importante l'aspetto reputazionale. E quindi ci si muove molto a tentoni e con calma. Tentoni non a try and and error, a la Elon Musk. Tentoni nel senso pian pianino, con calma, per non andare a creare troppa instabilità e complessità nel sistema. si cerca sempre di fare le cose con cauzia. Quindi magari, non lo so, qua a 40 anni l'euro digitale avrà un'altra valenza, avrà un'altra importanza e quindi bisogna già iniziare, non so, nel 2020 a progettare nuovi sistemi e ci può stare tutta come interpretazione. Però ecco, non mi sembra che sia questo quello che si percepisce che della notizità che è di nuovo la notizità ma network che ci Kant e